Fare il calcio in questo momento, solo calcio, è impossibile. L'anno di là lavoravo e mi allenavo. Facevo i turni o la mattina, entravo alle 6 e staccavo alle 2, oppure entravo alle 1 e staccavo alle 9. Arrivavi veramente a fine stagione e eri stanchissimo. Non so come sarà portare a lungo questo impegno perché a volte sto sette ore e mezza in piedi e quindi arrivare alla sera e allenarsi ad alti livelli non è facile. Però io adesso che sono in Serie A non ci credo. Puoi provare? In tiro! Vediamo un gol storico, un primo gol in Serie A! La firma, ti riesci a camminare! Il campo vedi l'essenza di questo sport. Sotti fino al 95esimo, se c'è bisogno di tirare una pelata la tiri, quindi è vero. Il campo è così, è vero.